Grazie a tutti a questa serata, grazie innanzitutto a Palazzo delle Esposizioni per avermi invitato a moderare un incontro che per me è estremamente stimolante, per tante ragioni. Innanzitutto grazie anche per aver visitato Amostra, che è una delle più belle mostre di fisica, di astrofisica che io abbia visto in vent'anni in cui faccio il giornalista scientifico e grazie per essere qui per un incontro che è particolarmente interessante. Insomma questo è l'anno in cui si celebrano i 400 anni, dalle prime osservazioni di Galileo al telescopio che poi sono sfociate nel Sidereus Nuncius, scritto nel 1610 e sappiamo che lì ci sono stati i primi contrasti, o perlomeno i primi, alcuni contrasti diciamo così tra la scienza galileiana e la religione o comunque tra la scienza galileiana, peraltro Galileo era un credente anche se un pochino zoppicante secondo la storia, insomma zoppicante nel senso che non era esattamente, come dire, non seguiva esattamente le scritture, la mamma gli dava l'ubriacone e anche altre cose. Però tutto sommato diciamo che c'è lo scontro tra il sistema post-aristotelico e Galileo di cui più o meno tutti quanti abbiamo un'infarinatura e poi quest'anno c'è ancora il centocinquantenario dell'origine delle specie in cui un altro personaggio cambia in qualche modo lo stato delle cose, Charles Darwin e anche lì l'incontro tra scienza e fede non è diciamo così dei più lisci, è un pochino rubido. Tutto sommato la possibilità di conciliare la scienza come la si vede in tempi moderni e la fede che anche molti scienziati hanno e professano è un argomento in discussione almeno da quattro secoli. Questa sera a testimoniare quelle che sono due posizioni che comunque nascono da una matrice scientifica, da una storia, una carriera scientifica, abbiamo due personalità di grandissima statura internazionale, ve le presento molto rapidamente perché li conoscete sicuramente già tutti, padre George Coyne che è stato per 28 anni direttore della specula vaticana, astronomo, astrofisico, cosmologo e dall'altra parte Giorgio Parisi, qui subito alla mia destra, fisico teorico, uno dei massimi fisici teorici, non posso dire non italiani ma del mondo e lavora qui all'Università della Sapienza di Roma e ci diranno quella che è la loro visione soprattutto in quello che è il loro terreno, il loro territorio che è quello della cosmologia. Per cui lascio subito la parola a padre Coyne, grazie e buona serata. Applausi Immagino che non ha pauliato per me, però vediamo se alla fine qualche applauso ci sarà. Mi sentite? Potevo prendere il gelato. Ho cercato un gelato al cioccolato di limone, ma non... Allora non so se quello che vorrei dire risponde al titolo stesso, ma vediamo, lascio aggiudicare a voi. Io cercherò di andare avanti rapidamente perché mi piace più un dibattito alla fine che sentire parlare tanto dei relatori. In ogni modo, parlando nella bella lingua italiana, non è che posso parlare rapidamente come voi italiani, ma cercherò di fare il mio meglio. La domanda che faccio è il mondo stesso, l'universo, tutto il contenuto dell'universo, noi, come prodotti dell'universo, siamo venuti per caso, puro caso o progettato. Quella domanda, chi risponde? Uno scienziato, un uomo di fede? Dipende di chi risponde. In ogni modo, la domanda c'è e ha le sue implicazioni, perché se è per puro caso, chi ha bisogno di Dio? È successo, basta. Se è progettato per necessità un destino, chi l'ha fatto? Chi l'ha destinato? Chi l'ha programmato, progettato? Allora, la domanda immediatamente implica una cosa che fu riesce per me dalle scienze stesse. La domanda non è adeguata secondo la scienza moderna. La cosmologia moderna non è adeguata perché bisogna farci entrare un terzo elemento che dico io e la fertilità dell'universo studiato scientificamente. Cosa vuol dire la fertilità dell'universo? Principalmente due cose. L'universo è vecchio, ha quasi 14 miliardi di anni, contiene 10 alle 22 stelle che buttano nell'universo tutti gli elementi, l'abbondanza chimica per la vita. Ecco, due cose. È vecchio l'universo e contiene moltissime stelle. Dicevo, l'universo ha quasi 14 miliardi di anni, ma io ho 125 anni, ma anche con tanti anni non riesco a capire cosa vuol dire quattordici miliardi. Allora faccio quello che fanno sempre i matematici. Cambio la scala e metto l'universo come se avesse un anno terrestre. Cosa succede? Ovviamente inizia al primo gennaio, i dinosauri avevano la bella fortuna di essere nati il giorno della festa di Natale, ma duravano solo cinque giorni. La fine dell'anno, l'ultimo giorno dell'anno, interessante. Gli esseri umani sono venuti sette minuti fa. Gesù Cristo cinque secondi fa e Galileo due secondi fa. Chi va a prendere le sue idee su di questo, le prenda. Io non so cosa dire. È solo che l'universo è tanto vecchio che risulta questo se cambiamo la scala. dal momento del Big Bang, l'universo iniziato con un Big Bang, che è la cosmologia più indicata su tutti i dati conosciuti, risulta una cosmologia del Big Bang. Noi stiamo qui, guardiamo addietro nel tempo, col telescopio spaziale, con i grandi telescopi sulla superficie della Terra. Quando guardiamo da qui, 14 miliardi di anni più o meno, guardiamo addietro, cosa vediamo? Vediamo questo. Questa è una fotografia fra le tante scatata dal telescopio spaziale. E cosa c'è da sorprenderci? Sono puntini di luce. C'è una stella qua, c'è una stella là. Io ho potuto contare solo cinque stelle. Tutti gli altri puntini di luce sono galassie. Ogni galassia contiene sui cento miliardi di stelle. Ogni galassia. Se non mi crede, vediamo più in granite. Certo, ecco, una galassia, un'altra galassia ellittica, un'altra galassia a spirale. Sono tutte galassie. una fotografia. E per questo motivo, statisticamente, posso dire che l'universo contiene sui cento, sui dieci miliardi di galassie, ognuno delle quali contiene sui dieci miliardi di stelle. Va bene. Perché l'universo è fertile? Perché le stelle fanno parte di una galassia. Parliamo di una galassia. Questa è come la nostra galassia. Se fosse nostra è la galassia di Andromeda. Se fosse questa galassia la nostra, il sole starebbe qui, al porto di uno dei bracci a spirale. Il sole, una stella fra cento miliardi di stelle nella nostra galassia. La galassia misura centomila anni luce. Cosa ho detto? Centomila anni luce. Vuol dire se sto qui e mia suocera sta là, non ce l'ho, ma mettiamo la suocera lì e comincio a parlare, a dire, mamma, come stai? Dopo duecentomila anni ricevo la risposta. Non sto tanto bene, il ginocchio non mi va, eccetera. È importante vedere che, man mano che guardiamo, più distante nell'universo, guardiamo addietro nel tempo. Cioè, Hubble ha visto galassie molto giovani. Hanno solo due miliardi di anni in un universo che ha quattordici miliardi di anni. Un'altra galassia. Questa è la galassia nostra, è molto piatta. È come una tavola, cioè misura cento volte più lunga che spesso. E questo è il piano equatoriale della nostra galassia. Io mi concentro su una parte di questo con una fotografia nell'ottico che vediamo noi con i nostri occhi e vediamo nella nostra galassia tantissime stelle. Ma io mi concentro su queste nubi oscure. Cosa sono quelle nubi oscure? Sono grembi stelari dove nascono le stelle. Questo è un esempio di un pezzo di una nube oscura che comincia a spaccarsi, i frammenti condensano. Man mano che si condensano, si riscaldano, secondo le leggi della fisica, e nasce una stella. Da questo pezzo nascerà una stella. perché man mano che si condensa, si contrae, alza la temperatura finché si arrivi a una temperatura sufficiente per innescare un forno termonucleare. Comincia a convertire l'idrogeno a aereo, a aereo a carbonio, a carbonio a azoto, eccetera, eccetera, sino a ferro. Man mano che vive una stella, converte gli elementi meno pesanti in elementi più pesanti. Quella stella, che nasce così, muore. Questa è una stella moribonda o morta, in questo caso. Il nostro Sole muorerà proprio così, con una nana bianca e butta all'universo un anello di gas. Questa è un'altra stella che muore, ma è una stella che alla sua morte aveva sui cento, sui cinque a dieci masse solari. Cioè, alla sua morte è scoppiata. Non è stata una morte, diciamo, tranquilla come questa. Le stelle, secondo la massa della stella, muoiono in diversi modi, ma muoiono. E quando muoiono, buttano all'universo, l'atmosfera rimasta. E da quell'atmosfera, come da questo gas qui, che è il rimanente di una esplosione supernova, nascono un'altra generazione di stelle. Il Sole è una stella della terza generazione. C'era la prima generazione nata da puro idrogeno. Una seconda generazione nata da idrogeno, un po' di erio, un po' di carbonio. Finalmente, una terza generazione di stelle, dove c'era l'abbondanza chimica sufficiente per la vita. Noi siamo nati dalle stelle. È una dichiarazione scientifica. Se non fossero per tre generazioni di stelle, non ci staremmo noi. Ci volevano tre generazioni di stelle per creare l'abbondanza chimica per noi. Intorno a una stella è successo questa, cioè la formazione di un sistema planetario, e fu riuscita un granello di sabbia. Posso dirlo, no? Fra dieci alle ventidue stelle, un Sole intorno al Sole, otto pianeti, un pianeta come la Terra, un granello di sabbia. Sappiamo già oggigiorno che ci sono almeno osservati più di quattrocento pianeti extrasolari intorno ad altre stelle. Le implicazioni lì sono tante. In ogni modo, su questo granello di sabbia è successo questo. Abbiamo, con la scienza moderna, potuto mettere l'universo nel nostro cervello, nella nostra testa, tramite le scienze moderne, la fisica, la chimica, la biologia, eccetera, la matematica. Io posso studiare l'universo mettendo l'universo nel mio cervello. Cioè io posso dire quanto massa ha, quante stelle ha, quante stelle giovani, quante stelle anziani. Per riassumere, ci volevano dodici miliardi di anni prima della vita. Dalla vita, dall'origine della vita, non sappiamo le origini della vita, ma sappiamo che la vita sia originata perché ci stiamo. Da gli organismi vitali primitivi a noi, cosa è successo? Una continua evoluzione dell'universo. Noi siamo venuti in continuazione con l'evoluzione e l'espansione dell'universo. Questa non è una prova, ma è interessante a misurare la grandezza, cioè quanti metri altri sono, la massa o il peso, per dire in lingua vulgari. Le due misure più facili a fare, quanto alto è e quanto pesa. E tutti gli oggetti, dal protone all'universo visibile stesso, vanno così con un certo rapporto. E tutti gli esseri vitali stanno lì dentro. Questa non è una prova che noi esseri umani sono venuti fuori. Ma mi fa incuriosire. Perché è così? E è così perché siamo venuti fuori così. Io esco ovviamente dal mio campo di ricerca. Ma lo faccio per suscitare un po' un dibattito. Siamo venuti fuori per il neo-darwiniano, l'evoluzione neo-darwiniana. Cioè, il progresso delle specie sino a quanto siamo arrivati al cervello umano. Com'è successo quello? Tramite la complessità chimica nell'universo. Se guardate, io non sono chimico a poter dire molto su queste molecole, ma so bene, come sapete voi guardando, che H, C, O, N si ripetono. Si ripetono sempre in molecole, in organismi più complessi. Se diamo questo processo nell'universo con la tanta abbondanza chimica che ci danno le stelle, se lasciamo per 12 miliardi di anni svilupparsi tramite la complessità chimica, arriviamo al cervello umano. E' successo, ripeto, per caso ho progettato, con l'implicazione che ho detto. Questo è un albero dell'universo, non della vita, dell'universo. Tutti i processi dell'universo in evoluzione e in espansione sono conservati qui. Devo dire una cosa. All'inizio dell'universo c'è l'idrogeno. Due atomi di idrogeno si incontrano e per forza devono fare una molecola di idrogeno. Necessitato quello processo. E' la legge della chimica. Ma non lo fanno adesso in quel posto perché le circostanze, la temperatura, la pressione, non sono giuste per la combinazione chimica. Vanno vagando nell'universo. Sono miliardi, miliardi, miliardi di atomi che si incontrano su un arco di 12 miliardi di anni. C'è da sorprenderci che ogni tanto, ogni talvolta, esce una molecola di idrogeno. Per caso e per necessità. I due processi combinati in un universo fertile. Due molecole di idrogeno si incontrano con un ossigeno e fanno l'acqua. Ma non adesso in quel posto. Cioè, entra la statistica, il caso. Ma se le circostanze sono giuste, non possono non fare una molecola d'acqua. E così si va avanti nell'universo fertile. E si arriva al cervello umano. Su questo albero, cioè, sono conservati tutti i processi. Quei atomi che non sono riusciti a fare una molecola più complessa, eccetera. Tutti i processi. la nascita della mia nonna, la nostra galassia, la terra, le mie unghie, i miei capelli che ci ha. Se passiamo una brezza per buttare tutti i rami per portare questo albero, per buttare giù tutte le foglie secche, eccetera. Arriviamo a questo. Arriviamo a quello. Arriviamo a quello inevitabilmente è una cosa simile. Non posso dire necessariamente, altrimenti nego tutto quello che ho già detto. Non posso dire necessariamente, perché c'entravo, come cercavo di spiegare, i processi casuali. E dico simile a questo, perché a certe epoche forse il caso avrebbe superato la necessità e avremmo, diciamo, bracci che vanno dall'ondelico e dalle spalle. Allora, simile e inevitabilmente, l'ultima domanda che faccio, sembra che ci sia un certo destino qua. Perché siamo arrivati agli esseri umani? Perché stiamo noi in cima? Perché il cervello umano è la macchina più complicata che ci sia. Se sapete una macchina più complicata, la mettiamo. Allora, vuol dire che ci sembra un destino? Torno alla domanda. Dio l'ha fatta? Chi vuol rispondere? Io non so. È la mia risposta. Non so. Perché da questo è un risultato puramente scientifico. Chi nega l'esistenza di Dio, chi asserisce l'esistenza di Dio tramite la scienza, fuoriesce dalle scienze. Perché per la propria metodologia delle scienze non si arriva a Dio. O se dici che arrivi a Dio, sei arrivato a qualsiasi cosa altro che Dio. Perché non si arriva a Dio tramite un puro processo razionale. non si arriva. Sicuramente non per un puro processo razionale scientifico. Grazie dell'ascolto. Si sente? Si, si sente. Va bene. Va bene. Allora, quello che io volevo concentrarmi... Io volevo concentrarmi su alcune domande a cui noi siamo, come uomini, più che come scienziati, interessati a sapere la risposta. Essenzialmente la prima domanda che possiamo farci è perché l'universo è quello che abbiamo visto, è come adesso, quello che abbiamo visto nelle bellissime diapositive presentate da padre Coine, quello che noi vediamo tutti i giorni. L'altra domanda è che possiamo farci perché questo universo ha le leggi della fisica, della fisica delle scienze che noi conosciamo. un altro perché che chiaramente per noi è molto importante e dice perché noi siamo qua. Cioè questa è certamente, se volete, una delle prime domande che l'uomo si è posto. Che poi possiamo anche un pochettino sfondarla di alcuni significati esistenziali e la domanda perché noi siamo qua, che potrebbe avere delle varie domande, non andare nella direzione di qual è lo scopo della nostra esistenza, ma possiamo domandarci perché la storia e le leggi dell'universo sono tali che sia possibile la vita dentro l'universo. e poi l'altra domanda che possiamo fare è perché la vita sia tale che possa dare adito a degli esseri di elevata complessità e capacità di riflessione come siamo noi esseri umani. Ora, quello che in generale bisogna dire è che la scienza forse non è nata per rispondere a questi perché, ma è nata per rispondere a delle domande molto più semplici. ed è nata anche con l'idea di non cercare di rispondere a domande globali. Cioè, per esempio, Aristotele ha la domanda perché un corpo cade e la risposta era perché il posto naturale per un corpo pesante è in basso e quindi il corpo va verso il suo posto naturale. Allora, la scienza moderna invece cerca di rispondere alle varie domande in maniera più quantitativa. Cioè, quello dice, ma possiamo scrivere, e usa la matematica, e le domande che si incomincia a fare Galileo sono perché possiamo scrivere delle equazioni, delle leggi del moto, degli oggetti in maniera tale che noi cominciamo a capire, almeno parzialmente, come si muovono questi oggetti. E la scienza moderna di Galileo nasce anche quando Galileo dice va bene, ma invece di cercare di capire come si muovono gli oggetti veri, supponiamo che non ci sia attrito. Cioè, che non ci sia l'attrito dell'aria, non ci sia l'attrito sul pavimento, che le nostre... e questo è una tono delle approssimazioni molto forti. Cioè, se non ci fosse attrito il mondo sarebbe completamente diverso. Immaginate cosa succede quando stiamo su uno specchio di ghiaccio, sul laghetto ghiacciato. Noi non riusciamo a camminare perché non c'è attrito. Quindi Galileo incomincia a farsi un mondo semplificato e cerca di fare risposte in questo mondo semplificato. Poi, pian piano, quello che è successo alla scienza, col passare degli anni, col passare dei secoli, poi le semplificazioni sono sempre diminuite, si sono incominciate a allevare e si è incominciata a cercare di guardare sempre più il mondo come era realmente. Però bisogna dire che, in qualche modo, l'assenza più o meno, anche se sta cercando di vendarsi, porta sempre un pochettino la traccia di questo suo peccato originale che, come diceva un grande filosofo del secolo scorso, Whitehead, la scienza procede tagliando la giacca dell'universo che è fatta di un solo pezzo di stoffa. Cioè l'universo è fatto in maniera, in qualche modo per Whitehead aveva una sua unità e la scienza lo cercava di comprendere guardando in una direzione o nell'altra direzione. Allora, quello che vi dicevo prima è che una cosa molto importante per la scienza sono le leggi. Cioè, che cosa sono le leggi? Le leggi ci dicono come, in date situazioni, gli oggetti si comportano. Allora, queste leggi sono molto importanti perché sono quelle che ci permettono di fare delle predizioni. ci permetterebbero di fare delle predizioni se noi le conoscessimo bene sulla storia dell'universo. Allora, quali sono le leggi? Una delle leggi più note che va indietro a Newton è la legge di gravitazione che due oggetti si attivano. Se io lascio in particolare, per esempio, nel caso di questa penna che cade e si attiva una forza di gravità, la forza di gravità essenzialmente la Terra attiva questa penna e questa penna cade accelerando sulla Terra. Questa è la versione Newton. C'è una versione matematica molto più sofisticata che è stata fatta tre secoli dopo Einstein. Ci sono le leggi dell'elettromagnetismo che dicono come si attivano le cariche elettriche e poi ci sono tutte le leggi delle forze nucleari su come si comportano i nuclei, ci sono le leggi della meccanica quantistica che dicono che su distanze molto piccole alcune idee nostre su cosa è un oggetto, su come si possono dire posizione, cosa voglia dire velocità e così via, sono differenti, ma io non voglio entrare nei grandi dettagli. noi abbiamo questo quadro di leggi e questo quadro di leggi è fatto in maniera tale, cioè vengono fatti una quantità enorme di esperimenti e alla fine quello che uno trova che da questa quantità enorme di esperimenti è una legge molto semplice che può essere scritta in due righe e tre righe, riesce a riassumere tutti questi esperimenti e essere in grado di predire i risultati di questi esperimenti. Quindi queste leggi della natura si trovano per un procedimento in inglese direbbe di trial error, essenzialmente è il procedimento di Galileo provando e riprovando, facendo prove che possono andare bene o male e a questo punto si formano queste leggi e queste leggi in molti casi dipendono, sono o come dicevo sono delle leggi generali come le forze elettriche e irrazionali ma in certi casi ci sono delle quantità, ci sono delle... ci sono delle... ci sono... dipendono da certi parametri, per esempio, per sapere come comportano gli elettroni dobbiamo sapere qual è la carica dell'elettrone, quando noi dobbiamo sapere, per esempio, come si comporta il neutrone e il protone e dobbiamo sapere la massa del neutrone e il protone. Perché sto facendo lunga sulle leggi? Perché se uno vuole cercare di rispondere a perché l'universo è fatto in questo modo, uno deve... la prima risposta che uno può cercare di dare è una risposta storica. L'universo adesso è fatto in questo modo perché tanto tempo fa era fatto in una maniera diversa. E ovviamente quello che... questa può essere una spiegazione relativamente buona dal punto di vista esplicativo se il modo in cui è fatto l'universo un tempo... tanto tempo prima è qualcosa di più semplice di come l'universo è fatto adesso. Cioè, uno normalmente tende a spiegare il semplice... il complicato tramite il semplice. e a questo punto la spiegazione che più o meno veniva anche da quello che si vedeva a parte coin è che l'universo ha una storia molto... una storia molto complicata. Cioè, nascono le stelle, nascono... poi sono... prima sono nate le galassie e così via. E l'universo... c'è la teoria attuale che l'universo nasca da una specie di Big Bang. cioè che l'universo era una situazione in cui era molto più piccolo molto più compatto in cui la quantità di energia... c'è una enorme quantità di energia in una regione molto piccola dello spazio e questo... e questo universo pian piano si è sviluppato diventato più grande. E a questo punto però quello che noi dobbiamo vedere di utilizzare le... cercare di capire quali sono le leggi della fisica che mi descrivono questo universo in questa situazione all'iniziale in cui l'universo era estremamente compatto. E' estremamente compatto e quello che succede è che le varie... le varie galassie, tutte le varie... la materia che noi vediamo così sparpagliata su queste distanze enorme stavano in regioni sempre più piccole. A questo punto quello che noi dobbiamo fare è che dobbiamo estrapolare le leggi che abbiamo, almeno dobbiamo cercare di vedere se noi riusciamo a fare un quadro corrente delle leggi della fisica che valga non solo nella zona dei fenomeni osservati ma estrapolando valga anche nelle regioni a distanze estremamente piccole che sono quelle che servono per capire e l'universo nei vari istanti. E questo è un... questo è un enorme... è un'estrapolazione... è un'estrapolazione enorme e al momento attuale gli scienziati pensano di poter essere in grado di poter... di poter arrivare a descrivere, almeno di fare delle ragionevoli congetture su quello che potrebbe essere che potrebbe essere l'universo che potrebbe essere l'universo al mondo all'istante iniziale però questa è quello che quello che succede che queste queste ragionevoli quando uno incomincia a fare queste tutte queste teorie su come può essere stato l'universo su quale possono essere leggi quello che dicevo prima questo il modo in cui spesso vengono formate queste leggi ci sono... ci sono... non sono assolutamente date cioè non stiamo nella situazione attuale in cui noi possiamo dire le leggi dell'universo sono certamente queste in cui la carica dell'elettrone deve essere 0,013 o la massa del protone diviso la massa del neutrone deve essere 1,0998 o sapere che questa è l'unica leggi consistenti quando noi immaginiamo le leggi dell'universo quello che noi le leggi dell'universo per quello che noi possiamo sapere ci sono varie leggi che sono che sono possibili e varie e varie possibilità e quello che è estremamente interessante che quando noi cambiamo di poco la struttura di queste leggi i parametri che determinano le leggi quello che succede la struttura dell'universo cambia enormemente cioè noi potremmo domandarci per esempio che cosa sarebbe successo a un universo in cui le leggi fossero state lievemente differenti per esempio e che il protone fosse stato un pochettino più pesante del neutrone il neutrone il protone sono essenzialmente due costituenti e due costituenti dell'atomo scusatevi del nucleo atomico e quello che succede se il protone fosse stato un pochettino più pesante del neutrone quello che succede che il protone sarebbe decaduto nei neutroni che cosa sarebbe successo sarebbe successo che il nucleo atomici sarebbero stati esattamente neutri gli elettroni sarebbero praticamente scomparsi quindi avremmo trovato praticamente un universo senza praticamente particelle elettriche con tutte con tutto quello che succedeva neutro probabilmente a questo punto bisognerebbe entrare nei dettagli della dei dettagli di come dei dettagli della fisica nucleare probabilmente le stelle avrebbero potuto ancora funzionare in un universo di questo genere ma certamente non ci sarebbe stata la chimica perché l'unica sostanza chimica dell'universo sarebbe stata l'idrogeno e la chimica di adesso funziona essenzialmente non nemmeno l'idrogeno perché gli elettroni non ci sono quindi avremmo avuto praticamente solamente materia nucleare quindi avremmo avuto un universo probabilmente con stelle con galassie ma forse probabilmente anche con pianeti però questi pianeti erano stati praticamente formati tutti di grandi massi di materia nucleare e non ci sarebbe stata assolutamente nessuna possibilità non solo per la vita ma anche di tutte le sostanze che noi conosciamo quindi proviamo anche questo è un solo esempio che quindi basta cambiare dell'1% la massa del protone e ottenere un universo completamente diverso se guardiamo tutte le tutta la storia dell'universo che è che è avvenuta quello che uno scopre è che ci sono stati tutta una serie di passaggi critici cioè come diceva giustamente padre Coyne e le sostanze in cui siamo stati fatti sono fatti vengono dalle stelle ma che cosa è successo che le stelle che ci sono state delle stelle primordiali che si sono formate sono esplose hanno disseminato gli elementi pesanti tipo il ferro e così via per il resto nelle zone vicino e poi tutte queste sostanze sono sono state utili se noi cambiamo un pochettino certi parametri altri parametri delle leggi fondamentali queste cose non potevano avvenire e così via e così via quindi quello che uno vede che i parametri che i vari parametri i vari numeretti che entrano nelle leggi fondamentali dell'universo sono hanno l'impressione di essere scelti in maniera quasi abbastanza precisa in maniera tale che la vita sia possibile a questo punto uno si può ci sono varie domande varie domande la domanda perché avviene così uno può dare delle risposte che può provare a dare delle risposte che non sono che non che vanno al di là della scienza ovviamente una risposta che è una risposta possibile è perché c'è un progetto un'altra risposta possibile è si basa su quello che viene chiamato il principio antropico io lo cito anche se il principio antropico mi sta fondamentalmente antipatico il principio antropico dice essenzialmente che le leggi dell'universo devono essere tali che la vita possa esistere dato che noi esistiamo e siamo viventi le leggi dell'universo devono essere tali che la vita esiste ovviamente questo può essere al limite considerato una non una banalità un'affermazione un'affermazione di principio ma non è un'affermazione scientifica nel senso che poi a questo punto non si fa scienza non si procede avanti nella scienza appellandosi a un principio di questo genere perché immaginiamo come avrebbe fatto cosa avrebbe successo a Newton una volta che si è cascata la mele in testa se avessero cercato di ragionare con il principio antropico e beh Newton avrebbe detto beh la mele è cascata per la forza di gravità se la gravità era troppo forte le mele cadendo avrebbero ucciso gli esseri umani quindi non ci sarebbero stati vivi quindi la gravità non poteva essere troppo forte se la gravità era troppo debole le mele non cadevano e quindi noi non potevamo mangiare e quindi la forza di gravità dovrebbe essere intermedia sto un pochettino banalizzando però intendo dire è chiaro che quello che invece Newton non si è domandato se la forza qual era la relazione fra la forza di gravità e la possibilità di avere una vita sulla superficie della terra ma ha cercato di andare a delle risposte e quello che sta cercando di fare la fisica in questi in questi dieci anni quindici anni è di cercare di capire se esistono delle dei motivi dei motivi più profondi di quello che noi che noi di cui noi noi sospettiamo per cui di tutte le teorie che noi ci possiamo immaginare solamente le teorie che hanno certi parametri che sono poi per caso quelle che corrispondono alla vita sono le teorie le teorie consistenti o meno e su questo questo è un qualche cosa su cui uno sta cercando di andare avanti cioè ed è una cosa estremamente faticosa perché uno deve in qualche modo costruire quello che si chiama che a volte qualcuno scherzosamente chiama la teoria del tutto una teoria perché normalmente le teorie che vengono fatte adesso sono teorie un po' separate per le forze di gravità per le forze elettromagnetiche per le forze per le forze nucleare una teoria che sia omnicomprensiva e la speranza è che di queste teorie omnicomprensive e in qualche modo che comprendano quindi la gravità che siano consistenti ce ne siano molte poche a disposizione però questo è qualcosa su cui per il momento stiamo stiamo molto indietro e non è detto se la soluzione dietro l'angolo o invece ci vorranno altri cento anni per arrivarci o se non ci arriveremo mai e e e quindi quello che le domande le domande iniziali perché l'universo è quello che è non non possiamo rispondere completamente possiamo dire che l'universo dare cercare di mettere in correlazione tutta una serie di eventi possiamo dire beh se la terra è un pianeta che si è formato in un certo modo a questo punto possiamo capire come come si è potuta evolvere la vita se con date le leggi natura se possiamo se l'universo è uscito dal uscito dal big bang strappendo le condizioni al momento del big bang possiamo capire come si sono come si sono formate le galassie come si sono formate le stelle e così via ma un perché uno a risposta di questo genere direi che la scienza per il momento non le può dare e non so quanto le potrà dare in futuro certo evidente che non lo so la mia impressione è che in qualche modo siamo in grado di rispondere a domande non di rispondere ma perlomeno di riformulare queste domande e di poterle di poter chiarire bene qual è il loro significato profondo in maniera molto meglio di quello che poteva fare Galileo quattro secoli fa e quindi abbiamo fatto in questo senso abbiamo fatto tutta una serie di progressi a rispondere a queste domande però uno può uno può anche dire che siamo ancora lontani ma forse un pochettino più vicini di Galileo da poter dare una risposta va bene grazie si si sente a questo punto mi sposto anch'io sul palco mi trasferisco sul palco perché nei vostri discorsi peraltro molto apprezzabili perché non solo questi due signori sono ottimi scienziati ma hanno anche un bellissimo background di riflessione epistemologica per il mio gusto personale però avete lasciato un po' in disparte la fede in tutto questo mi chiedevo perché mentre vi ascoltavo entrambi e tutto sommato mi dicevo che avete detto una cosa estremamente in accordo tra di voi ovvero che la scienza si occupa dei fenomeni cerca di spiegare i fenomeni e non ha nessuna pretesa nemmai ce l'avrebbe avuta in realtà di ragionare o perlomeno di dimostrare l'esistenza o l'inesistenza di Dio né nell'un caso né nell'altro allora mi chiedevo padre Coyne per quale ragione scienza e fede ancora ai giorni nostri continuano in qualche modo per bocca di alcuni per interessi di alcuni per scontri tra alcuni a essere in conflitto a volte per ignoranza si sente? no ha bisogno ha bisogno del gelato del gelato adesso si per ignoranza da sia dalla parte della fede diciamo della chiesa se vogliamo sia da parte degli scienziati per ignoranza per non limitarci ai propri campi di ricerca di dico io non sono posso sembrare ma non sono un cervello ambulante non sono uno scienziato basta basta sono un uomo la cultura umana è vasta letteratura poesia storia filosofia teologia scienza chi si limita ad un campo è povero per me è proprio povero e ci sono ci sono scienziati che predicano un certo scientismo che le scienze naturali sono l'unico modo di avere una verità proprio in cui posso fidarmi sono scienziati che non sono altro che scienziati nell'essenza delle scienze naturali e per me sono povere per quel motivo che si limitano si limitano alle scienze e peggio ancora furiescono dalle scienze per fare dichiarazioni teologiche filosofiche cosa cosa vogliamo e per quel motivo è successo nella storia e succede oggigiorno e succederà nel futuro per me è una semplice spiegazione non rispettiamo i diversi campi della cultura umana o ci limitiamo a un solo campo di vita umana padre le faccio un'altra domanda poi ne avrei una anche per il professor Parisi poi lascerò ovviamente spazio a quelli che immagino siano le vostre domande io le volevo chiedere anche un'altra cosa lei in quel bellissimo albero che ha fatto vedere e in quel ramo che porta poi all'evoluzione dell'uomo ha ovviamente da una parte riconosciuto l'evoluzione biologica cosa che tutto sommato anche in alcuni settori della chiesa non è ancora completamente accettata allo stesso tempo lei ha detto da qui vediamo che sembra esserci un destino l'ha chiamato lei dice potrebbe sembrare che ci sia un finalismo in qualche modo è un finalismo del quale la scienza però non può parlare per me io invento in un certo senso una parola ma una parola che spiega qualcosa è un finalismo intrinsico all'universo se vogliamo non è un finalismo che ci porta fuori dall'universo a una persona che ha voluto fare così non si può arrivare a quello è un finalismo intrinsico come spiega un destino intrinsico nel senso è la natura della natura è la natura diciamo della chimica la chimica è così che va avanti nell'universo come dicevo vecchio va avanti secondo le leggi della natura sviluppando sempre organismi più complessi sinché arrivi allora è intrinsico è la natura dell'universo sicuramente ci sono come si dice in italiano le composizioni di molecole vero ma ovviamente la struttura dell'universo è tale che la composizione di molecole sempre più complicate ha vinto sopra le scomposizioni dalle molecole perché ci stiamo è la natura dell'universo non bisogna uscire fuori ad arrivare a una spiegazione di quella tronco d'albero per me la ringrazio invece per arrivare a quello che voglio chiedere al professor parisi devo fare un passo indietro un passo indietro autobiografico ovvero come tutti i ragazzi che iniziano a studiare scienze da una parte sono incuriositi dalle scienze fin da giovane però mi sono chiesto mi sono posto come penso che tutti quanti ci siamo posti la domanda del quando uno comincia a incuriosirsi di questi argomenti ci si pone la domanda sì ma tutto questo chi l'ha messo lì un chi che non è necessariamente un chi materiale non è necessariamente una figura eratica dalla barba bianca ma comunque anche quando uno arriva al big bang o addirittura le ultime speculazioni che ha fatto anche il suo collega gabrile gabrile veneziano sul prima del big bang addirittura gli universi paralleli poi alla fine c'è un muro davanti al quale la scienza si ferma insomma non c'è niente da fare se le posta anche lei questa domanda cioè la domanda di spiritualità che poi di fatto la domanda che anima chiunque anche chi fa scienza sì la domanda uno se la pone ma quello che ma io non ho nessuna idea di quale sia la risposta abbiamo la stessa risposta allora quella domanda comunque comunque se le posta e se la pone alla fine perché in qualche modo anche se uno riuscisse a risolvere il problema quello dicevo che è molto difficile di perché le teorie di trovare una sola teoria consistente di un certo tipo che spiega l'universo uno si dovrebbe domandare si può domandare gli sia perché deve essere una teoria di questo tipo o al limite perché deve esserci un universo perché deve esistere qualcosa è chiaro che perché deve esistere qualcosa è una domanda cui non uno non può trovare risposta dentro dentro il qualcosa forse la domanda non ha senso questo può essere una risposta infatti prima mentre lei parlava stavo pensavo alle leggi alle leggi di natura chiedevo volevo chiederle se siano leggi o decreti legge però di questi tempi si rischia di imbarcarsi in discorsi piuttosto pericolosi è meglio che lasciamo perdere invece credo che le vostre risposte a queste mie domande siano molto soddisfacenti scienza e fede in fin dei conti si occupano di due mondi diversi non si incontrano o comunque non dovrebbero incontrarsi nel senso che le tra virgolette leggi di natura perlomeno le approssimazioni successive con cui ci avviciniamo al modo in cui accadono le cose fanno parte del nostro modo di studiare i fenomeni dopodiché la fede l'atto di fede e la religiosità di ciascuno di noi è una questione di coscienza individuale e che in sé non dovrebbe tendere a spiegare i fenomeni perché non è quello di cui si occupa la spiritualità e la religiosità o mi sbaglio padre coin uno spaglio grosso no ma uno spaglio se la fede non è solo una cosa personale cioè la fede chi chi crede veramente partecipa in una comunità di fedeli è importante qual aspetto della fede non è un rapporto personale George Coyne con Dio è quello ma dentro una comunità di credenti è importante quello ma a parte anche la scienza partecipa uno scienziato partecipa in una comunità di scienziati e se non si comporta bene è scattato via anche uno scienziato vero Giorgio no direi che quasi tutte le imprese umane sono fatte quasi tutte le imprese umane sono fatte dentro comunità e se noi proviamo a fare qualcosa di fuori da una comunità non riusciamo e ci isoliamo non riusciamo a fare niente quindi la nostra quasi tutte le nostre azioni acquistano un significato molto più profondo un un effetto molto più duraturo se non agiamo in maniera isolata ma dentro comunità comunità scientifiche nel caso degli scienziati comunità di fedeli nel caso della fede e così via si se poi mi passate la battuta essendo 7 miliardi su questa terra stare al di fuori da qualsiasi comunità sarebbe anche un atto piuttosto un tentativo piuttosto velleitario e difficoltoso insomma è anche bello essere parte di una comunità chi ha qualche intervento soprattutto domanda da fare prego signore in prima fila la domanda mediata nel tempo credo che l'abbia data sant'agostino quando sulla spiaggia incontra il bimbo che gli chiede a cui chiede che cosa stesse facendo la risposta la domanda immediata e che faccio al reverendo al è questa l'uomo si è inventato una religione per dare una risposta e un senso alla morte e contestualmente alla vita interrogativo no io direi di no ovviamente che la mia fede mi dice che dio ci ha parlato tramite secoli millenni di autori dalla tramite la sacra scrittura la chiesa cioè io non ho inventato dio ci ha parlato è la mia fede prima dio ha amato cioè dio è una sorgente di amore è amore e la fede è quello per me io non faccio apologetica ma dico che chi veramente crede crede che dio ha amato per primo io seguo sant'agostino che diceva io dio ti ho cercato notte i giorni per tutte le crocevie del mondo ti ho cercato ti ho trovato quando sono venuto a sapere che sei tu che mi hai trovato quello è un movimento viene da dio sant'agostino aveva un'altra risposta alla domanda che accennava giorgio a cosa faceva dio prima di creare il mondo la risposta ovviamente non c'era un prima non c'era il tempo tempo e spazio sono parametri dell'universo ma agostino aveva una bella risposta ha detto dio prima di creare il mondo stava creando l'inferno per coloro che fanno domande del genere ha detto così alle confessioni non dico a lei cito solo sant'agostino abbiamo un'altra domanda qui in prima fila poi ho visto un braccio alzarsi però non eccolo grazie si sente sì abbiamo sentito a mio giudizio due bellissimi discorsi e molto nobili e mi piacerebbe venissero pubblicati perché l'occasione di militare questi problemi come raramente si presenta quindi mi congratulo con chi ha parlato naturalmente come ha detto anche il nostro regolatore la parola dio non compare in questa forma però c'è lì immanente cosa ne facciamo bene io vorrei soltanto dire che questi discorsi di padre coin e di giorgio parisi ci portano verso l'incertezza c'è la domanda è ma allora quale sicurezza sappiamo d'altra parte padre coin ha detto in un suo scritto ai believing god because god gave himself to me io credo in dio perché dio mi ha chiamato se no dalla scienza non potete aspettarvi che si ritrovi pensiero di dio io voglio fare soltanto un'aggiunta a questo voglio dire che se dai discorsi di giorgio dei due giorgio viene una forma di incertezza dobbiamo pensare che c'è una via poderosa di uscita proprio pensando ai 13 miliardi danni di cui ci ha parlato padre coin dobbiamo pensare che siamo all'inizio della nostra conoscenza quel cervello tanto bello come sarà tra un milione 10 milioni d'anni sarà molto molto di più e quindi la nostra conoscenza destinata ad aumentare e posso immaginare tra milioni d'anni di discorsi forse più risolutivi forse no ma certamente più ampi del nostro cioè invito a considerare con umiltà il nostro cervello che ancora agli inizi perché quello che verrà potrà essere molto di più e questa fiducia questa non è fede ma questa è fiducia e fiducia che capiremo sempre di più e che siamo agli inizi grazie grazie a lei ha parlato il professor salvini che è stato lunghissimo tempo presidente della società italiana di fisica la signora festa fila e due semplicissime domande cioè avuto modo di capire attraverso questi incontri che la scienza osserva la materia per comprendere i meccanismi mentre la religione a quanto vale vede nei meccanismi della materia quelli che li genera quindi volevo chiedere se la conoscenza scientifica può essere vista a questo punto come religione moderna e ci dà le Einstein cioè scienza e religione sembrano incompatibili però lui diceva che la scienza senza religione è zoppa e la religione senza la scienza è cieca secondo voi è possibile un dialogo visto che la scienza e la religione sono come due rette parallele destinate ad incontrarsi mai ma sono allo stesso tempo le due ali dell'uomo moderno cosa ne pensate in merito grazie prima che rispondiate devo chiedere scusa professor salvini che è stato lungo presidente accademia del lincei e non della società italiana di fisica mi ha corretto il professor parisi ci sono cervelli che non sono lucidi neanche quando sono ancora abbastanza giovani chiedo scusa lui a voi se sei devo rispondere a quello è io non vedo che la scienza è un tipo di fede moderna la scienza non ha niente a che fare con la fede si incontrano nelle persone come me come alcuni di voi si incontrano si incontrano nelle comunità dei fedeli dei scienziati ma rispondendo a quello vorrei un po contestarmi con professor salvini dicendo che la ricerca della certezza è una cosa che siamo fatti così a cercare le certezze però la fede per me dico onestamente è la cosa più incerta che si sia e dall'altra parte anche è la cosa la fede è la cosa nella mia vita più assoluta cioè è fondamento di tutto quello che faccio anche da scienziato ma la fede è un'incertezza grande è un mistero di Dio cioè cercare nella fede una 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 certezza per me è sbagliato perché Dio non ci concede quella certezza non ci concede ci invita ad amare adesso predico ma l'amore stesso è una cosa incerta no l'amore anche umano ogni giorno va avanti con un po di titubare di qua di là che che basta basta così professor parisi ma anch'io non penso che che la scienza sia una specie di religione moderna penso tuttavia che ci sono delle della cattiva scienza e certa cattiva religione possono avere delle cose in comune cioè quello che penso per esempio al modo a volte che potrebbe può essere di presentare la scienza come qualcosa che fa che in cui ci sono dei misteri cioè per la presentazione di certi risultati scientifici come risultati come incomprensibili che solo certi iniziati possono capire e quindi questo ricorda in qualche modo a volte come potrebbero essere presentati a volte certi certi misteri della fede cioè te o dire la scienza non è non ha dei misteri la scienza è razionale e deve essere e può essere capita ovviamente ci vuole tempo per capirla come ci vuole tempo per parlare il cinese e uno non può pensare di parlare cinese in due minuti e però tutti sono in grado di parlare cinese se lo studiano la scienza non ha misteri però quello che molto spesso viene presentata la scienza in maniera a volte magica in maniera magica e a questo punto questo fa pensare a qualche e ricordo in qualche modo in questo punto può essere una religione cioè uno ci crede e uno non ci crede però deve prendere o lasciare mentre io ho l'impressione cioè quello che io penso invece che ci sia veramente una separazione fra quello che può essere la religione e la scienza separazione che però non c'è fra gli scienziati e fedeli gli scienziati e fedeli sono uomini che interagiscono fra di loro che possono litigare e cui possono stare antipatici che possono darsi botte in testa quindi il fatto che la fede è la parte diciamo più di fede almeno intesa in un certo senso nel senso in cui la voglio intendere io e la scienza debbano poi non abbiano non si incontrino ma infatti io volevo secondo me vero io volevo ricordarmi una definizione di miracolo che mi aveva dato un teologo tanto tempo fa un padre van diemen un domenicano e il miracolo è molto importante in un contesto di questo genere in cui parla di scienza e fede perché il miracolo è in qualche modo il modo in cui Dio interviene interviene nell'universo e la definizione di questo teologo dominicano dice il miracolo è un evento compatibile con le leggi nella natura in cui i fedeli riconoscono la mano del Signore quindi in questo modo vedete che con questa definizione di miracolo con questa definizione di intervento di Dio nella natura non ci può essere contrasto fra scienza e fede perché non c'è contrasto con la scienza perché l'evento è compatibile con le leggi della natura non c'è contrasto con la fede perché riconoscere in qualche modo l'intervento del Signore l'intervento che può essere stato fatto predisponendo le cause iniziali la condizione all'inizio dell'universo o in qualche altro modo ma sempre compatibile con le leggi non può essere certamente negata quindi la fede parla di un significato di un evento e la scienza parla invece di come è accaduto l'evento quali sono state le cause prossime di questo evento e quindi tendono ad andare in direzioni diverse grazie con questa accezione poi non so se tutti i teologi sono d'accordo con questa definizione grazie volevo un vaso di coccio tra vasi di ferro assolutamente però volevo semplicemente provare a dare una risposta da parte di uno che si occupa della scienza dal lato della divulgazione la scienza come religione moderna purtroppo spesso e volentieri la sensazione che si dà nella semplificazione della scienza è che la scienza oltretutto proceda per passi successivi come se oggi abbiamo scoperto questo quindi domani scopriremo quell'altro la scienza non vive così a parte che appunto prima di tutto come religione moderna in realtà la scienza non è dogmatica o perlomeno non dovrebbe esserlo i grandi scienziati come entrambi quelli che ho qui accanto sanno benissimo che una teoria, un modello quando si fa una teoria si fa in genere per superare il precedente sarà superato da un successivo ovvero la scienza procede per approssimazioni successive purtroppo ogni tanto anche gli scienziati si sono presi con un certo dogmatismo ricordo che Lord Kelvin nel 1900 alla Royal Society non c'ero però lo ricordo perché l'ho visto poi in filmati successivi fece un discorso in cui diceva che la scienza ormai aveva svelato tutte le leggi della natura non c'era più niente da scoprire sappiamo tutto della meccanica sappiamo tutto dell'elettromagnetismo sappiamo tutto della termodinamica ci ha tenuto a mettercela dentro perché aveva collaborato attivamente e si è trovato dopo questa cosa meravigliosa con cui si apriva il XX secolo questo fantastico discorso a avere le leggi della fisica ribaltate in una ventina d'anni per cui tutto quello che avevamo scoperto in realtà non è che non fosse valido semplicemente si sono affinate quelle leggi quindi la scienza procede prima di tutto non con un metodo diretto non ha una direzione provando e riprovando Galileiano la scienza riprova nel senso che refuta quando la prova che fa è sbagliata è il senso fondamentale della PRV di oggi per cui effettivamente si può avere probabilmente in una semplificazione dei meccanismi della scienza e dei processi della scienza la sensazione che la scienza possa essere dogmatica e quindi sostituirsi a una religione in realtà non lo è e non dovrebbe esserlo nemmeno per chi la pratica soprattutto per chi la pratica che dovrebbe essere sempre pronto ai cambiamenti non è sempre così ma qualche volta sì perfetto d'accordo infatti direi che la scienza va avanti tramite l'ignoranza intelligente o direi l'ignoranza razionale per esempio la gravità sappiamo cos'è la gravità le leggi della gravità se sappiamo quello sappiamo spiegare perché l'universo sta accelerandosi nella sua espansione c'è massa nell'universo ci stiamo sono le galassie come mai l'universo sta accelerandosi nella sua espansione chi sa spiegarlo perché fa una sfida alla gravità la gravità deve per forza sempre far rallentare l'espansione dell'universo e non lo fa allora c'è l'energia oscura perché è oscura perché il cervello è oscuro non sappiamo cos'è è l'ignoranza siamo ignoranti ma ignoranza passata su un ragionamento abbiamo la legge della gravità corrisponde alle nuove osservazioni o no procede così la storia della scienza dice questo essere ignoranti non è una cosa spiacevole c'è la signore coi baffi uno, due, tre, quattro quinta fila io voglio vogliere l'occasione per fare una breve osservazione su quello che il cardine su cui si muove il pensiero teologico cristiano di tradizione romana ossia i due termini ragione e fede la ragione è mossa fondamentalmente dal sospetto la ragione se non è sospettosa non va avanti perché si affida ai dati percettivi e quindi non può avanzare e quindi fa un'azione che che dia ballen cioè separativa fa un'azione di tipo separativo e la conoscenza si raggiunge attraverso questa attività di tipo separativo che genera sofferenza dalla mente perché questa attività separativa se la si applica in modo sistematico a tutti i domini dell'esistenza non solo nel campo scientifico ma anche nella vita quotidiana e lo si fa in maniera coerente si cade in una sindrome psichiatrica che viene chiamata paranoia cioè in una situazione in cui la persona si trova in una situazione di grande isolamento e in cui sente di vivere un universo radicalmente ostile per cui lui stesso fa degli atti di violenta ostilità come una sorta di guerra preventiva per difendersi da un eventuale attacco allora la fede che cosa fa la fede la ragione oltre ad avere questa caratteristica ne ha ancora un'altra se noi soppesiamo noi dobbiamo prendere una decisione anche semplice vado a quella conferenza oppure non ci vado comincio a valutare poi il contro ma adesso siamo sotto le feste ci sarà lo sciopero è forse qui e forse là a un certo punto rimani a casa non esci di casa quindi la ragione si può dire trova sempre buone ragioni per evitare l'azione noi ogni volta che compiamo un'azione anche nella vita quotidiana noi facciamo un atto di fede noi ci accolliamo un rischio e facciamo un atto di fede perché dire fede e dire rischio è la stessa cosa la fede è ciò che la fede è radicata nella fiducia la fede è radicata in quella dimensione che gli psicologi chiamano fiducia che ti consente di appunto rompere la perplessità e agire per usare un'immagine la fede agisce nei confronti della mente come svolge nei confronti della mente la stessa funzione che svolge l'atmosfera nei confronti della terra ossia uno schermo protettivo contro i raggi cosmici che ne distruggerebbero la vita semmai non ci fosse quest'elemento protettivo grazie grazie se potete passare microfono questo signore qui al centro con i baffi no più indietro più indietro più indietro allora sembrava delle premesse che questo incontro e questa conversazione era un incontro di box invece vedo che non è un incontro di box ma è un incontro tra gentiluomini però io voglio mettere un po' di sale in questa conversazione allora lo spunto me l'ha dato lei cioè se uno scienziato che è razionale e quindi accetta pronto accetta le leggi della fisica come può accettare che Dio faccia un miracolo e quindi scombussoli tutte le leggi della fisica quindi una spiegazione da tutte e due mi sono spiegato no ma sei tu che hai sì i miracoli li ha tirati in ballo lei professor Paresi quindi se la sfanghi con i miracoli per cui sono io che ho parlato dei miracoli quindi spetta a me ma nell'interpretazione quindi dobbiamo intenderci cos'è un miracolo nell'interpretazione che dava padre Van Diemen della parola miracolo miracolo è qualcosa di compatibile con le con le leggi della natura quindi 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 uno scienziato può anche uno scienziato può anche dire può anche partire dall'ipotesi che se il miracolo è qualche cosa che è contro le leggi della natura in qualche modo non esiste come esiste perché quello che succede le leggi della natura cioè è un evento raro che bisogna studiare i motivi e bisogna cercare di capire i motivi il punto di vista invece di un di un fedele è che è che indipendentemente se violi o non violi le leggi della natura il miracolo è un viene riconosciuto nel miracolo l'intervento l'intervento divino quindi questi sono due modi diversi di guardare sono due modi diversi di guardare lo stesso fenomeno lo stesso fenomeno ma se volete le leggi della natura sono quelle che descrivono quello che succede in natura se ci sono i miracoli ci sono le leggi dei miracoli una volta che si riusciranno a fare abbastanza i miracoli potremmo potremmo studiarli finora i miracoli sono relativamente vari ed è difficile studiarli padre in fondo di queste domande come dicevo un po' prima Giorgio cosa sono le leggi della natura sono prescrittive o descrittive o descrittive le leggi della natura sono leggi necessarie o sono come un semafero qui in Italia dove ti va bene tu passi se non scherzi a parte cosa sono le leggi della natura è una cosa statistica che tutte le volte che butto su quello scende e una bella volta troverà che questo buttato giù non scende più in base a questo dico io come uomo di fede vedo così i miracoli che siano pochi altrimenti io perdo la fiducia nelle leggi della natura io non vedo perché cioè il mio credere in Dio dice così Dio è onnipotente Dio può fare quello che vuole in un certo senso a certi limiti se Dio ha creato il mondo ha creato un mondo che ha una certa razionalità e lascia quella razionalità andare avanti ma non può intervenire con la resurrezione di Gesù una volta tanto ma se Dio comincia come certi credono a moltiplicare a scombussolare tutta la natura come diceva tu per prendere quella parola non penso che Dio sia quel tipo di Dio che va a scombussolare a creare miracoli perché eccetera eccetera quello sarebbe un Dio in cui non non mi fido io a temere aggiungere una una cosa cioè c'è il vecchio argomento adesso non mi ricordo di chi era che essendo Dio onnipotente le leggi di generatura sono perfette perché evidente non potevano essere non perfette e a questo punto se sono perfette non hanno bisogno di essere violate perché se hanno bisogno di essere violate sarebbero imperfette quindi a questo punto Dio non può violare le leggi di generatura perché se avesse avuto bisogno di violarle l'avrebbe fatto meglio in maniera tale da non doverla violare infatti Urbano Ottavo era il Papa che la condanna di Galileo si concentra su di lui una volta quando furono amici i propri amici Galileo e Urbano Ottavo Urbano Ottavo diceva a Galileo ma cosa importa se il sole o la terra sta al centro perché Dio avrebbe potuto fare quello che gli pareva e Galileo ha ripensato ma se Dio poteva fare quello che gli veniva in testa non c'è una razionalità all'universo non c'è una base per le scienze un volontarismo fondamentale così non è possibile cioè Dio non può fare quello che gli pare non può farlo questo non nega l'onipotenza di Dio ma dice che cosa vuol dire l'onipotenza di Dio mi spiego cioè che io vi fermo qui e ci fermiamo qui anche se anche in questi ultimi in questi ultimi discorsi secondo me si erano dei bellissimi spunti di discussione però purtroppo il tempo incalza ringrazio tutti quanti di nuovo buona serata intanto vi ricordo visto che padre coinci ricordava della gravità che non basta a tenere insieme l'universo perché continua a espandersi settimana prossima alle 18.30 Eugenio Coccia parlerà proprio dell'attrazione della gravità e soprattutto della caccia spietata e speriamo con qualche risultato un giorno o l'altro alle onde gravitazionali buonasera a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti